Ciao, creatura. Io sono Ecate, splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cusai e S.M.R. Ciao, a grande richiesta. Guardiamo insieme il catalogo del Lidl di Halloween. Finalmente il momento è arrivato e questo video è uscito straordinariamente questa sera solo per te, creatura. Allora andiamo a vederlo insieme, dicetto, ricetto o scherzetto da lunedì 21, quindi da oggi a domenica 27.10, quindi assolutamente non potevo farlo uscire la prossima settimana. Anche se i video di martedì e di giovedì sono già programmati pronti per uscire questa sera, visto che su Instagram ho ricevuto una marea di messaggi dove dicevano ti prego fai perché avevo mostrato che avevo trovato il catalogo, questo catalogo qui, il catalogo del Lidl di Halloween. E allora un sacco di gente, oh mio Dio, ci farei il video, ci farei il video, però io i video li avevo già preparati questa settimana, ma come puoi vedere le date non posso farlo uscire la prossima, quindi oggi sto facendo questo video per te, tu lo stai vedendo questa sera. Ok, allora, ho visto, già ho già spirciato, che ci sono delle cose nuove che io non ho mai provato, quindi andrò oggi pomeriggio a vedere se ci sono, e se ci sono ovviamente le, comprerò. Ho messo i guantini e anche questo braccialetto con le catene. Catene di dischio. Oh, c'è un capello. Allora, possiamo iniziare. Nuggets di petto di pollo, 2,99 euro, questi già c'erano. Cioccolatini al latte, 1,49 euro, questi già c'erano e sono buoni. Poi, Snack di patate, snack di patate al gusto di formaggio e bacon o salati. I ravesi sono buoni, snack, quelli di formaggio e bacon sono piccoli, gli altri sono salati. Oppure snack a base di patate al gusto di panna acida, buoni questi per i bambini perché non hanno di gusti, per i potenti sono gusti delicati, a 0,99 euro, ma anche per gli adunghetti, certo. Hanno messo la fanta perché arancione, secondo me, o perché magari si vuole fare la festa di alcolina tema arancione, e allora hanno messo molto intelligentemente la fanta in offerta a 0,99 euro invece di 1,49 euro. Fanta orange, ovviamente, sì. Che tra l'altro sono usciti due temi che preferisco nella stessa settimana, quindi vogliono farmi spendere tutti i soldi che ho, perché è uscito il tema Halloween e il tema McKenna di American Way, che sono i miei due preferiti del leader. Cioè, veramente, ciao soldi. Allora, qui abbiamo lo yogurt di Halloween con vari gusti che però non riesco a leggere. Aspetta, eh. No, non riesco a leggere da qua. 0,49, mi ricordo che erano buoni, avevano dei gusti particolari, se non sbaglio. Poi, però questi già li avevamo già visti, quindi non mi soffermo neanche. Mini pizze farcite a 2,49 euro, queste mi sembrano nuove. Sono fatte come la pizza grande di Halloween, una delle due pizze grandi di Halloween, però in versione pizzette mi sembra nuova, una novità questa. A 2,49 euro. Poi, crocchetti con succa, queste mi sembrano nuove, sinceramente. Fammi sapere nei commenti, se c'erano anche l'anno scorso. 2,49 euro. Ora assaggiarmi. Poi, figure di purea di patate. Queste già c'erano, sono come delle crocchette di patate, però a forma di fantasmini e zucche di Halloween. A 0,99 euro. Poi, questa che l'hanno scorso, e sono due anni che la cerco, ogni volta che vado non c'è mai. Grazie. Pizza di Halloween. Farcita con crema di zucca e pancetta fumicata. Mi era partita una bio di buzzagliare. A 1,99 euro. Oh, cavolo, tu non la stai vedendo. Eccola qua. Questa qui. La pizza. Monster pizza di Halloween. Questa non la riesco a trovare mai. Oggi pomeriggio ci vado, però la tono oggi le offerte. Eh, cavolo. Non la trovo. Questa invece l'ho assaggiata. Non è nulla di speciale. Magari non è nulla di speciale anche questa. Ma devo assaggiarla, per dirlo. Questa è farcita con salsa al pomodoro, formaggio jetter, fuster, affumicati. I pomodori. Praticamente è solo bella così da vedere perché ha il pomodoro colorato di nero. E quindi è mostruosa. Però è buona. Cioè, alla fine non ha niente di che. Però per i bambini i gusti sono perfetti perché i fuster e il formaggio jetter di solito piace ai bambini. Però, se noi siamo tutti, si piace. Poi, questa qua è introvabile. Se la trovi, almeno sapere. Poi c'è il gelato a zucca che mi sembra nuovo. Io non l'avevo mai trovato. E spero di trovarlo. A 1,79 euro. Sarà sicuramente buono. Ah, è speziata però. Speriamo non ci siano delle spezie che non mi piacciono, tipo la cannella. Perché se no... Ciao, Lidl. Non me la cuovo. Poi, abbiamo la bevanda di Halloween. Bevanda Halloween. Per veri vampiri. Eh, eh, eh. Succo tuba rossa. Milagrana. E ribes nero. A 1,49 euro. No, non me la prendo questa, però. Questa è molto carina per una festa... Beh, se facessi forse una festa... No, se facessi una festa mettere cose al colico. Però, ehm... Se facessi una festa con... Se avessi dei figli, infatti... Allora, no, sì. Quando avrà dei figli, farò una festa di Halloween. Ogni anno. E, ehm... La comprerò perché per loro sarà molto divertente. Per le vincersi dei vampiri o dimostrare poi... Ehm... Figli di demoni. Che lo sono già. Pasta tricolore di semola di grano duro. Questa la prendo sempre. A 0,99. Ed ha forma di... Ragnetti, zucca e... Pipistrelli. Insomma, delle forme di Halloween. È troppo carina. Questa è proprio carina. L'avevo mangiata anche al di fuori di Halloween. Quindi, dice... È semplice pasta. È solo la forma che è bella. Poi, armonie con parmigiano, ricciano e zucca. 1,29 euro. Queste non le ho mai provate. E se ci sono le prendo... Queste voglio prendere. Arachidi in pastella. Perché adesso io avevo proprio la passione delle arachidi in pastella. E ci sono anche quelle americane. Quindi prendiamo tutto. Svaliggiamo un little. Svaliggiamo un little. Ok. Halloween. Marshmallow. Dolcetti spumosi. 1,29 euro. No, questi non mi piacciono tanto, sinceramente. Sono solo di dolci. Di zucchero. Allora, ti dico, i marshmallow. Se ci fossero ripieni, li prenderei. Ma così no. In Giappone ci sono ripieni. Comunque, caramelle, gommose, Dracula. Sono praticamente identi da vampiro. Quindi dovresti mangiare dei denti. Questo è veramente creepy. Sarò una volta 9. Solo per l'idea di mangiare dei denti. Ma i bambini li useranno per... Li indosseranno come dentiere. Ci giocheranno oltre a mangiarle. Quindi è carino. Preparato... Ma cacchio, mi sono dei bambini. Preparato per dolcetti di Halloween. Carino, 1,49 euro. Popcorn, caramellati, 1,99 euro. Non mi piacciono. Quelli dolci non mi piacciono. I miei preferiti sono quelli del burro. Oppure quelli che mi faccio in casa. Che ci metto burro, masala, rosmarino. Ci metto quello che voglio. Paprica dolce. Non tutto insieme. In una di queste cose il burro. E poi una spezia. E di giorno vengono buonissimi. Poi hanno messo delle cose in offerta della Kinder. Il Kinder buono dark. Tutto a tema. Happy Snacks. Zucca. Con dei dolcetti. Tipo una mystery pack. Della Kinder. Però versione Halloween. Poi un cioccolato happy. Cazzo. Cos'è il cioccolato happy? Non lo so. Comunque 1,49. 7,49. E 1,79 euro. Ma non finisce qui. C'è un'altra pagina. E poi ci sono altre pagine ancora. Allora è tornata la nostra amica. ciambella di Halloween. Che è buona. Che ha la glassa, l'arancia, il cioccolato. E coperta da mordenti. E giusto. Devono fare la pubblicità un po' halloweeniana. Quindi lasciati catturare. Dalla gustosa glassa all'arancia. Coperta da mordenti. E scaglie di cioccolato. Potrei fare la pubblicità. Vero? Anche il reparto picco. Vestigia Halloween. Con una ciambella da paura. Che non lo so se è buona. E la trovo, rapido. 49,49. Anche un buon prezzo. 12 città di cioccolato. 2,29 euro. Abbiamo le pare. Che è sta roba? Le ossa. Credo. Le dita mozzate, mozzate, mozzate. E le zucchette. Biscotti colorati. Di pasta frolla con cioccolato. 0,99. In realtà i biscotti sono i cookies. Sono i cookies. Con tipo gli M&M's o gli Smarties. Non lo so quali di due che è lo Smarties. Poi lecca, lecca, lecca il cioccolato. A 1,69 euro. Ma questi no. Non li comprerei. Questi li comprerei. Però non lo so. Biscotti con cioccolato al latte. Buoni. 0,99 euro. Questi qui, questi c'erano già. Ma queste cose qui non sono sicure ci fossero già. Figure di cioccolato. Figure di Halloween di cioccolato. Vedete? Sono come le monete di cioccolato. Quindi non so quanto sia buono questo cioccolato. Perché di solito quello delle monete non è buono. 1,19 euro. Poi. Qui troviamo occhi di cioccolato. Mi ha orgoglia. Questi penso che li prenderò 1,49 euro. Dipende. Se hanno un ripieno. Devo leggere poi. Quando sono a giro, lo confezio e le leggo. Se hanno un ripieno, li compro. Sono niente. E poi caramelle gommose al gusto di frutta. 3,99 euro. Questo è ottimo per i paesi dove i bambini vanno a fare dolcetto e scherzetto. Quindi si compra questo. E si mette a disposizione di bimbi quando vengono su una vecchia campanella. E buono. Poi. Figure di Halloween di cioccolato al latte. 1,29 euro. Anche se in realtà adesso che ci penso, Lidl ha sempre delle maxi confezioni di caramelle dolciumi che si possono comprare direttamente. Anche quelli già con i sacchettini singoli dentro. Io prenderei quelle da dare i bambini. Se ci fossero dei bambini ci sono. Quindi come nulla fosse. Caramelle gommose Halloween. Tu ero 99. L'anno scorso Aitarra le voleva. E non se le è prise. Non so. Non mi ricordo cosa fosse successo. Forse non c'erano a Genova. Invece nel dinero c'erano. E quindi ho pensato quest'anno di comprarele io. E poi quando ci vedremo il regalo. E voi prendete queste qua. Perché sono le più carine. Di Halloween. A parte sia così anche quelle più economiche. Ma non vorrei mai comprare queste in forma di darato. Perché io ho paura di raggi. Io non compro. No. Anche solo al principio. E queste caramelle gommose. Non mi sembrano. Cioè queste mi sembrano molto più belle. Queste faccio. Orribili. Creepy. Sono belle. E poi vedi che bei colori. Questi sì che attirano spuchis. Trolli spuchis. Con tutto questo verde acido che mi attira. Quindi ovvio che avrei compratto questi dettagli. Caramelle gommose da Rantola. 3,29. Caramelle gommose in generale. 3,49. Insomma vedi c'è troppo oranciumi qua. C'è tanto verde. Mi attira. Caramelle gommose con ripieno di frutta. Queste le ho già mangiate. Fanno troppo senso. Per un'altra. Sembrano un occhio. Che la consistenza. No no. Non ce la faccio. Poi piatti di cardallo. Carini. 1,49. Tovaglioli. A 1,19 euro. Molto carini. Poi. A 1,39 euro. Ci sono questi. C'è questo rotolo. Casa Halloween. Molto carino anche questo. Non è molto conveniente al prezzo. Forse. Però una volta. Ogni tanto si può fare. Fino a una volta all'anno. Quindi ci sta. Zucca di plastica. Ripiena. Con dolciumi. A 1,49 euro. No. Queste le cose non me le prendo. Zucca ornamentale Halloween. A 4,99 euro. E questo non abbiamo letto. Forse in veli. Trovate l'1,49 euro. Che avrà dei dolciumi dentro. Immagino. Credo che i costi così sono. Borsetta. Forse sì. Per andare a fare. Certo. Scredito. Non so. Non specifica. Se è per i pino. Ripiena. Poi qua abbiamo. Ad Halloween. Portami con te. E c'è. Il vestito di Halloween. Per cani. Troppo bello. Costume per cane. Che si può volendo mettere anche al gatto. Io penso. Però a 6 euro. Ero 99. Io sbaglio sempre le taglie. Il mio gatto. Quando compro i vestiti per gatto. Sono sempre troppo piccoli. Quindi mi sa chi dovrei puntare sui vestiti per cani. Immagino. E' troppo ciccione. E' troppo ciccione. Costume per bambini a 6 euro 99. C'è il vampiro. Lo scheletro florescente. Un altro tipo di scheletro. Non so che scheletro sia questo. Perché ha delle costole strane. Poi. Lo scheletro speciale. Adesso avrei capito. Ma che un travestimento di gatto. Gatto nero di Halloween. Forse i bambini sempre quelli più sfigati. I maschi sempre vestiti da paura. E i bambini. Il gatto speciale. Questa specie di ovulissa. Vabbè. E la strega. Almeno la strega. Vabbè. Poi. Mascherina per bambini a 1 euro 99. Sono carine. Questa qui mi piace di più. Poi. Maschera per adulti. 4 euro 99. Non sono tanto belle. Questa mi sembra molto più inquietante. Tra tutte. Sembra una maschera di pelle. A vista così. Quanti persone bisogna vedere. E poi. Cappello per bambini a 1 euro 99. Che non stai vedendo. Ancora qua. Cappello per bambini a 1 euro 99. Carini dai. Questo è questo qui. C'ho scritto. August Box. Carino. Come nel film. Cappello per adulti. C'è questo con le regnatele. Questo che anche là. Questi qui hanno il velo davanti. Bello. Rosso e verde. Coincidenza. Questo rosa è uscino. 1 euro 99. Cosa dovrebbe essere questo rosa rosa? Vabbè. Sorvoliamo. Poi. Forse c'è un po' di riflesso. Comunque qui abbiamo costume da uomo. E c'è vampiro. Questo è il famosissimo. Papale qua. Non lo so. Non lo so. E questo è un zombie. Poi. Costume da donna. Zombie. Zombie va sempre bene. Vampiro va sempre bene. Questa. Non lo so. Cosa potrebbe essere. Strega diciamo. Anche se non è così. Però stesso. E qua c'è un altro vestito da donna. Che costa meno. Perché è proprio un vestito. Però molto strano. Non lo si capisce. Vabbè. Perché non mi fate creare a me. I costumi belli. Poi. Parrucca per adulti. 3,99. Sono veramente brutte. Tranne questa. Sì. Matite. Colori per viso. 4,99. Poi bisogna vederle anche di persone. Quello c'è da dire. Poi. Basta di Halloween. Sobriamo. No scherzo. Oggi ho ancora un sacco di tal roba. Piante di Halloween addirittura. Ficco. Con i vasetti di Halloween. Ma che carine. Bellissime. Ma non so. Fermiamoci. C'è altro da vedere qua. Ho un set da bambini. Tre pezzi. E costume per bambini. Non mi piacciono. Poi. Cerchietti da bambina. 2,99. Carini dai. Quello col cappellino. È carino anche questo. Maschera per adulti. A 2,99. Non mi piacciono tanto. Sinceramente. A parte questa da un po' Joy Giordi. Se non mi ricordo. Ecco. Anche se non è così. Però. Per dire. Tipo. Occhiali o accessori. A 3,49. Si dà abbastanza carini. I guanti. Che ne ho in infinità. Perché ho avuto un periodo. Che mi mettono sempre i guanti. Io comunque. E a scuola. Bene sì. E poi. L'accetta qua. Mamma. Dai. Carino. Questi qua. Questi fiori qua. Si hanno gli occhi. Dentro. Alle rose. E il top. È bellissimo. A parte i colori. Però. Bene. Poi. Qui abbiamo accessori da capelli. 1,49 euro. Belle. Peccato che. Le mani scheletriche. Mi piacciono. Ma le ho già. E tutto il resto. È molto. Puglioso. E carino. Poi. Abbiamo. I collantadonna. 40 denari. A 2,99 euro. E sono molto carini questi. Io ho. Già. Questi qui. Che hanno. Come non si vedono tanto. Perché sono così. Glow in the dark. Anche questi. Sicuro. Perché sono in stesi. Sono questi qui. Con. Lo scheletro. Le gambe scheletriche. E si illuminano al buio. Sono bellissimi. Se. Sono ancora questi. Che si illuminano al buio. Te li consiglio. Io ancora li ho. E funzionano. Sono troppo belli. Comprali. Perché. Questo prezzo qui. È buonissimo. Ma. Anche dai cinesi. Li trovo. A questo prezzo. Che si illuminano al buio. E. Sono anche. Una buona. Buon materiale. Con. La alta bambina. 40 denari. A 3,49 euro. Ci sono varie fantasie. Di allungo. Questi non credo si illuminano al buio. Non so perché. Hanno fatto sta differenza. Però per una volta è andata meglio agli adulti. Che ai bambini. Ah tiè. Lanterna led. Per interni. Candela led. Batteria. Con effetto. Fiamma. Accensione. Spendimento. Azionabili. Anche. Manualmente. A 7,90 euro. Mi sembrano carine a me. Qualcuno mi ha scritto. Che. Le decorazioni di allungo. Queste. Sono uno schifo. A me non sembra. Però magari abbiamo gusti diversi. Per esempio. La lanterna. E queste luci decorative. Mi piacciono. Poi magari di persona. Viste. Sono così. Belle. Luci decorative. Abbiamo visto. Le luci decorative. Al tiger. Costano di un po. 7 euro. Invece quasi. 3,99 euro. Buon. posto. 10 led. Alimentazione. A batteria. Inclusa. Addirittura. Inclusa. Accensione. Spegnimento. Assionabile. Anche manualmente. 3,99 euro. Ci ho detto. Lunghezza complessiva. 1,75 metri. Di cui. 0,4 metri. Di cavo. Di collegamento. Sono precise. Poi. Candele per alu. Belle. A me piacciono. 1,99 euro. Mi piace questa. Perché altro. Semplice. Questi sono. Mi sembra troppo. Incomprante. Poi. Adesivi 3D. Adesivi con l'ologramma. Belle. Queste cose. Mi piacciono tanto. Io mi ci farei proprio la casa. Con questi qua. Tipo. Famili Adams. Preparati. 2,99 euro. Decorazione confiabile. 1,99 euro. Poi. Decorazione in filtro. Questi non mi piacciono. 3,99 euro. E neanche quelle confiabili. Non mi piacciono. Queste autoconfiate. Autoconfiante. 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 A led. Mi piacciono. Però non me li comprierei. Vabbè. Te lo dico sinceramente. Se me lo avrebbe paura. O le distruggerebbe. 2,99 euro. 22 euro. E non mi piacciono. Quindi direi anche di no. Neanche queste confiabili. Non mi piacciono. Ma queste qua. Mi piacciono assai. Dovrei vederle però di persona. Perché sicuramente. Se hanno. Delle stampe. Troppo. Cartunesche. Non mi piacciono. Se sono un po' più realistiche. Allora sì. Ve le metterei proprio in casa. Ma fissili. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Oh. Che peccato. È finito. Adesso c'è. Questa qui. Di. Americana. Ma. Io mi fermo qua. Perché volevo solo far vedere. Le cose di Halloween. Questo video. Solo per le cose di Halloween. Casomai. Questo qua. Eh no. Perché. Fino al 27. Quindi. Non lo farei in tempo. Quindi niente. Ma tanto. Ho spirgiato già. E non c'è. Praticamente. Nulla. Di nuovo. Tutte queste cose. Le ho già assaggiate. Mi pare. Aspettiamo. Uno sguardo. Veloce. Di solo le novità. Allora. Questi gelati. Io li ho assaggiati. 4,49. Si costano tanto. Ma sono deliziosi. Te li consiglio. Se non li ho mai provati. Poi. Vediamo altre novità. Queste bevande vanno voglia. Ma credo ci fossero già. Queste patate. Me le ricompro. Come vedi. Queste patate qua. Me le ricompro. Sono tipo quelle. A spirale. che c'erano anche a McDonald's. Non so che tempo fa. Poi. Vediamo. Cosa c'è di nuovo. Mi pare. Quasi nulla. Sinceramente. Posso dirti cosa andrò a ricomprarmi. Di nuovo. Qua c'è. Non c'è più niente. Di nuovo. Non c'è quasi nulla. Qualcosa che mi deve essere sfuggito. Mi pare. Anche di no. Ah. Questi cereali. Mi facevano voglia. Noi li avevo visti. Le altre volte. Sono cereali. Alle arachidi. Ricoperti di cioccolato. Cioè. Ve lo abbiamo apprendiziato bene. A giornata. E questi vorrei provarli. Sinceramente. Per il resto. Non ho visto niente altro. Di nuovo. E basta. Poi c'è. Normale. Catalogo normale. Lidl. Niente di che. Le indichi. Prodotti che si trovano. Anche le altre volte. Solo che stanno in offerta. Ecco. In quel senso. Niente di che. Beh. C'è anche la frigidrice. Il set pentole. Pentole con coperchio. Poi qua. Dei vestiti. Sportivi. Una. Macchina da cucire. Altri pigiami. Cardigan lungo. Da donna. Parour. Copri più o meno. Matrimoniale. O single. E basta. Poi c'è il super weekend. Come ogni. Volta. Ogni settimana. Overti volte. Da sabato 26. A domenica. 27 ottobre. Di queste cose. Mi fanno vuole i pistacchi. Per esempio. Che costavano ben. 6 euro. I 99. E non mi sia 4. I 99. Dovevo dire conto. Non male. I pistacchi costano sempre un sacco. Comunque. Ti ringrazio per aver visto questo video. E lo attende. Lei. Richiesto. E atteso tantissimo. Quindi. Come potevo non farlo. E ci vediamo. A martedì. E giovedì. Con gli altri video. Ciao creatura. Grazie per continuare a seguirmi. 10.000 follower. E poi continuatevi. Ad iscrivere. E a spalmare. Il mio canale. E io continuerò. A. Ad accettarvi. Tutte le richieste di video. Fai questo. Fai quello. Io sto cercando di accontentare tutti. Per ringraziarvi. Del sempre questo supporto. Di noi iscritti. E insomma. Ci sto mettendo anima e corpo. E spero che. Verrò. A pezzare. Insomma. Per questo. Spero che si veda. Insomma. Ecco. Ciao creatura. Buonanotte. Ciao creatura.